Buongiorno a tutti, allora dopo il weekend motoristico, diciamo, torniamo alle faccende che riguardano il calciomercato e anche le partite in generale, ecco, ci sono cose anche sui mondiali eccetera e si parte subito con la Croazia. Allora ultime notizie Sky dicono il Citi Dalic potrebbe, potrebbe, quindi non è detto che lo rimandi a casa, io leggevo lo rimandano a casa, lo rimandano a casa, loro mettono un condizionale, possibilità, probabilità, mettete quello che volete, potrebbe rimandare a casa Nicola Kalidic, il motivo avrebbe finto un infortunio contro la Nigeria, quindi potrebbe non rimanda a casa, potrebbe, poi vedremo se lo rimanderà a casa o meno, qualcuno ha detto lo rimanda a casa, loro dicono potrebbe, quindi restiamo nel vago, poi nella giornata di oggi che è il 19 vediamo cosa succederà. Io sto riprendendo le notizie del 18. Vediamo al Cicciarito Hernández che dice una vittoria importante per il Messico, quella con la Germania naturalmente, ora però dobbiamo fare bene contro Svezia e Corea del Sud perché in questo momento Messico e Svezia sono a tre, Corea del Sud e Germania sono a zero e ci sarà parecchio da ridere perché la prossima partita sarà proprio Messico, Corea del Sud e Svezia, Germania, quindi ci sarà molto da ridere. Juventus proseguono i contatti con il Valencia per Cansello, come soffro, come soffro, come soffro, gli spagnoli però non abbassano la richiesta, però i tentativi di intesa vanno avanti lo stesso, speriamo di no, non me ne vogliano i tifosi bianconeri ma a me darebbe molto fastidio. Torniamo sempre alla Juve, prima offerta per Golovin o Golovin o Golovin rifiutata, quindi è pronta una nuova offerta da 18 milioni più bonus, vediamo se stavolta al CSKA Mosca gli piace un po' di più, se no dovranno alzare ancora un attimino perché Golovin è un ottimo giocatore e anche 20 milioni li vale tutti. Juventus nel fine settimana Emre Can, chiamatelo come volete, sarà in Italia per le visite mediche, mentre Piaka potrebbe rinnovare il suo contratto. Piaka che come sapete la Juve sta usando un po' come mercedista in cambio, un po' come sta facendo l'Inter con Eder, più o meno il valore delle capacità dei due giocatori è quasi simile, solo che Piaka è molto ma molto più giovane. Torniamo sempre alla Juve, restiamo sulla Juve che ha questo mandragola da piazzare e tra le tante squadre si è inserita anche l'Atalanta che probabilmente sta pensando a lui per sostituire Cristante, più o meno potrebbero avere lo stesso tipo di ruolo. Viceversa con Sturaro proseguono i contatti con il Leicester per l'intesa, quindi Sturaro potrebbe andare a fare una bella esperienza in Premier League. Roma, io credo che i miei amici Sick Wolf e Gladiatore giallorosso saranno molto contenti che il caro tecnico Eugenio Di Francesco, Eusebio Di Francesco, scusate Eusebio Di Francesco, ha rinnovato fino al 2020 il suo contratto anche perché l'anno scorso ha fatto un campionato, anzi un'annata più che un campionato, che definirei da libidine, perché semifinale di Champions non ci arrivavano dall'84 e francamente hanno rischiato di arrivare anche in finale. Terzo posto in campionato quindi Champions League garantita, ma lì magari in Coppa Italia potevano andare un attimino meglio. Proseguiamo sempre con la Roma perché la gente di Pastore è a Milano, proseguono i contatti tra club visto che il giocatore vuole tornare in Italia e si parlava appunto della Roma. Mentre invece sempre per la Roma, e qui sarà contento sempre il mio amico Sick Wolf, così non piange, perché è in St. Bay la trattativa con il Real Madrid per Alison perché ballano 20 milioni tra domande e offerta. Presumo che il Real abbia offerto 50, la Roma voglia 70 e quindi mi sa tanto che per la felicità di Sick Wolf il caro Alison resta a Roma. Poi proseguiamo sempre con la Roma perché c'è stato l'incontro nuovamente con gli agenti di Florenzi per il rinnovo, speriamo che anche questa telenovela la finiscano presto perché non se ne può più. Mentre invece su Bruno Perez, su cui è molto interessato il Torino, ci sarebbe anche il Besixas che sta rompendo i marroncini alla squadra Granata. Napoli. Siamo agli sgoccioli per il passaggio di Giorginio al Manchester City. Appena finisce l'operazione, quindi una volta che hanno ceduto Giorginio, Giorginio, chiamatole come volete, al Manchester, a Napoli arriverà Fabian Ruiz dal Betis Siviglia. Mentre invece, sempre per la questione Napoli, Marekansic dovrebbe rimanere e quindi se resta Marekansic, il mercato del centrocampo del Napoli resterà fermo così, quindi si accontenteranno dei giocatori che ci sono e penseranno a rinforzare o la difesa o l'attacco, oppure nulla perché magari Ancelotti dice va bene così, la squadra mi piace, mi gusta. Vedremo, però per ora dovrebbe rimanere, poi ne parleremo ancora di Marekansic. Napoli. Il PSG chiede 35 milioni per Areola, portiere. Raiola sta già lavorando per far scendere un attimino il prezzo e quindi se si muove Raiola state tranquilli che il prezzo scende. Inter, rinnovato il contratto a Candreva fino al 2021, quindi ci dovremo sopportare ancora lui e Don Cherubino e Don Gigi Inter dovranno di nuovo fare le novene per sperare che segni un gol almeno nel prossimo campionato. Intanto proseguono i contatti con la Roma per portare Nainggolan a Milano e qui mi dico la mia. Allora, come ha fatto notare la mia collega youtuber Alessandra Peluso, il caro e simpaticissimo Nainggolan ha detto mi vogliono vendere. Ecco, allora siccome lo vogliono vendere e non è lui che vuol venire a Milano, resti pure dov'è perché noi di mercenari ne abbiamo già troppi, l'unico che non è mercenario facciamo fatica a riprenderlo che è il caro Rafinha, quindi francamente ripeto per quanto sia forte Nainggolan. Resti dov'è perché è forte, ma io voglio gente che voglio l'Inter, non mi vogliono vendere, quindi resti là così, i normalisti sono contenti e noi non abbiamo un mercenario in più che ne abbiamo già a sufficienza. È forte, nessuno mette in dubbio che non sia forte. Veniamo a Sabatini che sono rimasto basito perché tu lasci l'Inter per andare a fare il nuovo direttore dell'area tecnica della Sampdoria. Francamente io mi aspettavo che Sabatini adasse al PSG, al Manchester City, al Real Madrid, al Barcellona, al Manchester United con Mourinho, squadre del genere. Tu non puoi lasciare l'Inter per andare alla Sampdoria. Io mi sento offeso, ecco, punto, miei personali delucidazioni. Veniamo alla Sampdoria e mi fermo un attimo. Vi dicevo, mi fermo un attimo, chiudo questa prima parte di video sul calciomercato, visto che comunque sono già 8 minuti e 35, non voglio tediarvi troppo, e preparo anche un secondo video, sempre sul calciomercato, che riguarda sempre il 18 giugno del 2018, perché ci sono anche altre notizie molto interessanti. Però, visto che sono stato lungo e le notizie sono ancora tante, preferisco tenere le due cose separate, fare due video in modo che così ve li potete vedere con calma senza avere 18 minuti di video. A dopo, ciao!